Buongiorno e benvenuti al nostro Tg del mattino. Mancano tre settimane alle elezioni regionali. In questi giorni gli ultimi adempimenti. Definito il facsimile della scheda elettorale, mentre sabato prossimo ci sarà l'ultima revisione degli aventi diritto al voto. Curiosità, la tornata elettorale costerà poco più di un milione di euro. Sentiamo Enzo Luongo. Eccolo il facsimile della scheda elettorale che troveremo nei seggi il 25 e 26 giugno prossimi. È stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale. Nella scheda ci saranno 14 simboli, 7 per il centrodestra di Francesco Roberti, 6 per il centrosinistra di Roberto Gravina, 1 per Io non voto, i soliti noti, la lista di Emilio Izzo. Situazione diversa dunque rispetto a 5 anni fa. I simboli allora erano 16, con 4 candidati alla presidenza. Il centrodestra con Toma aveva 9 liste, il centrosinistra con Veneziale 5, i Cinque Stelle da soli con Greco, Casa Pound con Di Giacomo una sola lista. Alla fine Toma vinse con 73 mila voti, secondo si piazzò Greco con 64 mila preferenze, terzo Veneziale con 28 mila voti, infine Di Giacomo con 700 preferenze. L'affluenza fu del 52%, stavolta considerato il trend al ribasso degli ultimi anni e considerando anche che si vota in estate, il dato potrebbe alla fine essere ancora più basso. Gli eventi diritto al voto saranno circa 330 mila, ma è un numero nel quale sono incluse anche diverse decine di migliaia di residenti all'estero. Il dato preciso dei molisani che andranno alle urne lo conosceremo tra qualche giorno, considerato che l'ultima revisione delle liste elettorali prima del voto è fissata per sabato prossimo, 10 giugno, e cioè 15 giorni prima delle elezioni. Ma quanto costa questo voto regionale? La cifra stanziata è di poco superiore a 1 milione e 100 mila euro. Circa 800 mila serviranno per pagare le spese che i comuni devono affrontare per mettere in piedi le sezioni e la macchina elettorale. Circa 300 mila euro invece serviranno per pagare presidenti di seggio e scrutatori, che percepiscono nel primo caso 150 euro, nel secondo 120. Raccolta firme organizzata dal comitato referendum ripudia la guerra. A Campobasso il banchetto in centro ieri durante la festa della Repubblica, ma è possibile firmare anche online. Nei prossimi fine settimana saranno organizzati altri appuntamenti. Sentiamo. Un banchetto all'inizio di corso. Vittorio Emanuele II a Campobasso per raccogliere firme per il referendum ripudia alla guerra e contro l'invio di armi ai paesi coinvolti in conflitti. Iniziativa organizzata dal comitato in tutta Italia nel giorno della festa della Repubblica. Stiamo proponendo una modifica della legge che permetta per l'appunto di decidere autonomamente di non inviare e quindi non essere obbligati a inviare armi a guerre che tra l'altro non ci coinvolgono personalmente e che il popolo italiano nel 60% tutte le statistiche lo dicono sono contrari a questa guerra e alla nostra partecipazione diretta o indiretta inviando armi o addirittura un giorno probabilmente si arriverà all'invio personale di forze umane. Una raccolta firme anche online sul sito referendum ripudialaguerra.it è stata l'apposita sezione come spiegato dal coordinatore regionale del comitato Michele Testa. Le raccolte in tutta Italia stanno andando bene in tutte le piazze maggiori d'Italia sono state raccolte le firme e sicuramente ci saranno altri banchetti magari durante i fini settimana, durante le feste insomma anche ovviamente per venire incontro all'organizzazione. Si può firmare con varie modalità o quando trovano il banchetto nelle varie piazze nelle varie vie delle città nei vari comuni di residenza e online con il QR code tramite il sito insomma avranno tutte le informazioni per poterlo fare online. E tutto termina qui il nostro Tg del mattino adesso la rassegna stampa. Con Massimiliano Chiocchio in regia vediamo come è titola primo piano Molise il quotidiano del Molise i livelli di assistenza nessuno in Italia fa peggio del Molise L'EA 2021 non è cambiato nulla rispetto al 2020 gli ospedali locali sono in fondo alla classifica unica regione che scende sotto i 50 punti 48,55 recupero consistente di posizioni nell'area prevenzione calo invece in quella distrettuale aumenta anche il tempo di intervento del 118 poi per quanto riguarda le regionali Romano presenta la squadra è un referendum gli stessi o il futuro l'appello di costruire democrazia siamo all'anno zero ultima chiamata poi c'è il punto di Patrizia Manzo l'onore di avervi potuto rappresentare dice l'ex consigliera regionale quella che sarà l'ex consigliera regionale in quanto non si ricandida con il Movimento 5 Stelle poi viabilità i semafori e le solite code statale Trignina disagi all'infinito una è indivisibile Repubblica 77esimo anniversario il Molise in festa ci sono stati eventi sia a Campobasso anche a Iserni e Termoli in altri centri poi Trivento scomparso da 10 giorni ore d'ansia per Emiliano Civico poi Termoli Mensa della Caritas realizzata con l'8x1000 esempio di cui andare fieri vediamo poi le altre notizie quelle di Sport Campobasso De Filippis alla ricerca dei pezzi giusti per il 3-5-2 di Mister Mosconi pallacanestro la Magnolia Under 17 tra le prime quattro d'Italia anche la GES VACAPO basket 3x3 Capobianco e le azzurre si giocano il pass per i quarti a Vienna vediamo come titola informamolise.com con le notizie locali e le notizie nazionali alluvioni e dissesti Ricciardi si lavori con gli esperti poi ci sono tutte le altre notizie vediamo come titola la news della valle alto sangro diverse le notizie a Isernia le celebrazioni della festa della Repubblica anche a Campobasso poi ancora il messaggio del Presidente Toma preserviamo i valori più alti della democrazia Sessano del Molise paese invaso dai cinghiali cittadini allarmati nuovi avvistamenti nei pressi delle abitazioni private poi ci sono tutte le altre notizie vediamo come titola il Corriere della Sera c'è la notizia di Cronaca che ha sconvolto l'Italia il delitto di Giulia non fu premeditato il titolo in virgolettato poi a Milano infatti il giudice dice il barman può uccidere ancora le foto appunto con fiori pupazzetti e pensieri per Giulia Tramontano e Tiago il bimbo che sarebbe dovuto nascere in estate poi c'è sotto questa foto che ritrae Alessandro Impagnatiello l'assassino mentre esce dallo stabile con i vestiti sporchi dentro un sacco ci sono poi le dichiarazioni della mamma di Alessandro io madre del mostro non lo perdono questi dunque fatti di cronaca poi Corte dei Conti e PNRR scontro tra Italia e Unione Europea il governo regole corrette basta polemiche Mattarella il 2 giugno ci guida la carta il vice ministro Leo sanzioni esagerate per chi non paga le tasse scudo difensivo per l'Ucraina una strada per cercare la pace le mosse di Stati Uniti Francia Regno Unito e Germania dunque lo scenario con gli approfondimenti in chiave internazionale passiamo adesso a vedere la prima pagina della Repubblica anche qui c'è il fatto di cronaca la morte della donna incinta il delitto Tramontano la madre dell'assassino chiedo perdono perché ho messo al mondo un mostro poi ci sono gli approfondimenti e le analisi Omar e l'accusa dell'ex moglie mi minacciava con l'acido il killer di Novi Ligure dunque altri fatti di cronaca PNRR anche qui scontro con l'Unione Europea dopo l'emendamento sui poteri della Corte dei Conti all'arme della Commissione europea monitoreremo con attenzione l'irritazione di Palazzo Chigi basta polemiche strumentali la norma non modifica gli accordi la terza rata resta congelata amministrativa e l'astensione è donna e colpisce di più l'opposizione e poi ci sono tutte le altre notizie sulla Repubblica vediamo adesso la prima pagina del Fatto Quotidiano festa della Repubblica ma è quella Ucraina 2 giugno di guerra tutti celebrano l'escalation delle armi scrive ancora il Fatto Quotidiano ma la parata il tweet di Zelensky il coro fra Mattarella Meloni ministri e mezzo PD parla Domenico Gallo giurista assurda retorica bellica contro l'articolo 11 della carta poi il portafogli nelle urne ecco chi votano i ricchi e i poveri le dichiarazioni IRPEF e il voto nelle città poi ci sono altre notizie procure in allarme abuso d'ufficio i favoritismi non più punibili dal Fatto Quotidiano passiamo alla prima pagina di Libero Gigino d'Arabia già sfiduciato l'inviatone dell'Unione Europea nel Golfo scrive Libero Di Maio inizia col botto il lavoro in Oriente gli emiri invitano un altro emissario italiano al posto suo e Twitter gli chiude il nuovo profilo cutro per i PM il governo non c'entra i sei indagati sono tutti tre i soccorritori tre della Guardia di Finanza e tre della Guardia Costiera e poi Sallusti scrive stop alla Corte dei Conti non si poteva lasciare il PNRR in mano ai giudici vediamo adesso come titola il secolo d'Italia Meloni la patria è frutto di sacrifici da compiere insieme il titolo dell'editoriale poi a 96 anni mette in fuga il ladro la nonnina diventa un simbolo Roma a fuoco un palazzo di sette piani morto un ragazzo passiamo adesso a vedere il manifesto avanti Marche è il titolo in evidenza altare della patria parata e para frecce tricolori l'Italia celebra le forze armate intanto la guerra c'è continua per padre Zanotelli siamo in guerra da tutte le parti nella Sardegna occupata dalla Nato si va in piazza il PNRR servirà per il riarmo buona festa della Repubblica scrive il manifesto intanto in Ucraina nessun dialogo la guerra c'è sarà ancora lunga controlli sul PNRR scontro con l'Unione Europea anche qui c'è questo titolo crisi del clima l'Italia lotta con le gelaterie scrive ancora il manifesto e FIOM ASTELLANTIS dialogo o conflitto sulla questione lavoro passiamo adesso a vedere avvenire il quotidiano dei Vescovi vacanze vietate titolo in evidenza l'impennata dei prezzi minaccia di rendere proibitive le ferie per le famiglie a basso reddito richiamo dell'Unione Europea sul PNRR il governo ribatte controlli adeguati non alimentare le polemiche la fiammata dell'inflazione e la domanda turistica in forte crescita fanno lievitare i costi di viaggi e alloggi festa della Repubblica Mattarella e Meloni impegno per il paese allarme casa a Roma 24.000 sono i senza dimora le associazioni l'appello ora iscrivetevi all'anagrafe Putin teme il caos in Russia pace l'esempio di Roncalli altre azioni oltre confine moriva intanto 60 anni fa il papa della pacem in terris vediamo adesso come titola la stampa di Torino Italia Unione Europea lite sulla Corte dei Conti anche qui c'è questa notizia e poi la Costituzione ci guida Mattarella celebra la festa del 2 giugno il vero senso della patria e poi cresce il lavoro dei sottopagati numeri di Banca Italia più posti ma meno redditi il costo della vita da solo pesa il 17% e poi ancora il barman l'ho uccisa perché ero stressato la madre dell'uomo dice è un mostro e si parla del femminicidio di Giulia poi l'inchiesta le nuove ombre nere dall'istituto Iliade a Nazione Futura passiamo adesso a vedere il sole 24 ore nasce la cassa integrazione veloce per le calamità ecco questa notizia ammortizzatori sociali nel decreto alluvione la cassa integrazione unica semplificata per 300.000 persone per gli autonomi assegno ogni 15 giorni a partire da 500 euro fino a 3.000 le procedure per gli aiuti requisiti da autocertificale imprese dell'Unione Europea meno vincoli per la competitività Business Europe la richiesta subito regole chiare stabilità fiscale e mercato unico più forte e poi ancora bici l'impatto sul turismo vale 7,4 miliardi di euro l'economia dunque su due ruote la gazzetta dello sport Inter Colossal è il titolo nuovo sponsor e premio Champions dunque lo sponsor è la Paramount alla quale vanno 10 milioni di euro 9 alla squadra se batte 10 milioni dalla Paramount che è il nuovo sponsor dell'Inter 9 vanno alla squadra se batte il City in finale di Champions oggi a casa del Toro le prove generali per l'ultima partita di campionato poi Granata se vincono chiudono Ottavi Torino Cairo passi avanti con Iuri ci dice ora completiamo il progetto poi ancora un gemello per Leao Appioli Piace Berardi caccia all'altra ala per prendere il volo le strategie per il Milan del futuro dunque calcio mercato e poi così cala il sipario da Spalletti a Di Maria e una festa per Ibraimovic all'ultima con il Milan poi Roma e Murigno cos'è Eurointrigo Eurointrigo squalifica in vista e vede Fredkin le accuse il caso è quello delle accuse all'arbitro dopo la partita dopo la finale di Europa League poi il premio della Lega e il top della A pronto il rinnovo fino al 2028 con il Napoli per quanto riguarda invece la Formula 1 Charles Leclerc Cavallino nel cuore in Ferrari fino a 60 anni dice per correre e vincere nell'intervista fa la promessa dunque ai tifosi della Ferrari Maranello sia all'altezza del suo asso e l'analisi di Gasparini Gianluca Gasparini il centro vediamo come titola con le notizie che riguardano l'Abruzzo in questo caso Pescara Veleni di Bussi Pescara e Pescarese Veleni di Bussi accordo da 3 milioni di euro la provincia rinuncia la causa e la Edison paga i lavori di una scuola Pescara migranti nave fermata per 20 giorni porto di Ortona ha violato il decreto piante dosi scatta lo stop sbarcati e assistiti 49 profughi poi filmati da una guardia turistica Abruzzo show con 5 orsi evento raro sulle montagne poi ancora la guida in Abruzzo guida lavoro nuovo bonus alle aziende che assumono gli under 30 Covid in calo ma c'è un piano per i vaccini il via in autunno in Abruzzo poi lungomare sud nuovi cantieri al via Pescara interventi anche a Borgo Marino Masci dice così porta nuova cambierà volto per quanto riguarda invece altre notizie Colli padre Guglielmo abbraccia gli ammalati a Montesilvano degrado in via Lazio ora è scontro tra i comuni per quanto riguarda il calcio Zeman ora ridisegna il Pescara playoff per la B domani semifinale d'andata allo Zaccheria Crescenzi Mesic e Aloi potrebbero partire titolari contro il Foggia vediamo adesso il centro con le notizie che riguardano Teramo e il Terramano municipio primo sì al recupero Teramo il sindaco c'è il via libera dell'ufficio speciale per il post sisma festa del 2 giugno celebrata in piazza con i cittadini a Teramo la novità voluta dal prefetto e poi ancora festa tra giovanissimi con la droga Roseto sorpreso uno spacciatore di chetamina e 40.000 euro di multa al locale per quanto riguarda Atri dopo il voto Prosperi via al ricorso per ricontare le preferenze e Nereto Delitto Masi via dedicata ai coniugi assassinati per quanto riguarda lo sport Maxi Schermo fuori dal Fadini verrà installato a causa dei tifosi puniti dal giudice sportivo Giulianova domani playoff a porte chiuse passiamo adesso alle notizie del centro che invece riguardano l'area di Chieti Lanciano e Vasto c'è questa notizia incendio Ecofox stop di due settimane Vasto l'azienda di biocarburanti conta i danni l'amministratore delegato Pepe bene il piano di emergenza dice le aule con i nomi dei partigiani cerimonia la scuola eroi ottobrini con 27 intitolazioni a Lanciano la città e la rivolta del 43 al nazifascismo Chieti il caso autistitua dal prefetto contro i turni per l'estate a Francavilla Silinido confermate la gestione e le tariffe vediamo adesso invece il centro con le notizie che riguardano l'Aquila Avezzano e Sulmona Akera l'Asl caccia i pirati russi l'Aquila la procura scopre l'origine dell'attacco di un mese fa aumentano le difese nubifraggio su Celano famiglie sgomberate danni alle palazzine ma il tempo è paura dunque all'Aquila 24 cantieri senza fine traffico intilte forti disagi e poi ancora vai festa della Repubblica cerimonia in tutta la provincia e va in cerca di funghi muore nel bosco all'Aquila aveva 64 anni l'amico dall'allarme inutile soccorso in elicottero in un'area impervia bloccata la nave dei migranti al porto di Ortona fermo amministrativo per 20 giorni e poi ladri in azione svaliggiate le macchine dei pescatori nel Fucino poi Giostra a Sulmona la Cordesca prende il via si sfidano 500 bambini passiamo adesso a vedere le notizie che riguardano l'Abruzzo sul messaggero crisi dopo l'alluvione pesanti danni all'agricoltura per le precipitazioni degli ultimi giorni le aziende in difficoltà il sindaco di Avezzano chiede lo stato di calamità emergenza occupazione dicono i sindaci e poi l'Aquila il nodo della sicurezza morti bianche controlli insufficienti Pescara via i lavori il nuovo campus nel corridoio verde Ortona applausi ai migranti poi sigilli alla nave dopo lo sbarco delle 49 persone a bordo scatta il provvedimento amministrativo e a Pescara tutti al mare nel primo ponte dell'estate ombrelloni aperti ma mancano i baristi l'allievo di Nico Miglior Cuoco della Malesia da Chieti a Kuala Lumpur l'avventura di Stefano Maria la penna il medico che combatte per la quercia a rischio crollo a 73 anni ed è radiologo e poi ancora ci sono le altre notizie sul messaggero è tutto termina qui la nostra rassegna stampa il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise come sempre alle 14 in diretta con il telegiornale buona giornata e Grazie a tutti.